Sì, abbiamo preso questa decisione insieme all'assessore alle pare opportunità Ramona Penserini perché il contrasto alla violenza non si deve dimostrare solo il 25 di novembre ma tutti i giorni e quindi proprio per questo, questo colora questa panchina perché ogni cittadino che passa qua davanti deve combattere in ogni modo ogni tipo di violenza, soprattutto quella sulle donne tenuto conto gli ultimi dati che abbiamo in possesso dove una donna viene uccisa ogni tre giorni e abbiamo dei dati allarmanti anche derivanti da questa emergenza sanitaria perché sicuramente ha costretto la convivenza della vittima con il proprio guzzino e questo ha amplificato le violenze domestiche. Questa panchina è la prima di quella che si presume una lunga serie in futuro? Sì, la nostra idea è quella di che ogni anno ne verrà dipinta, pitturata di colore rosso una in ogni frazione fino ad arrivare a averne più di più quasi un percorso dedicato alla donna alla violenza contro le donne. E' anche un simbolo che deve rimanere fisso appunto in città per dare testimonianza di questo valore. Sì, per noi tra l'altro che siamo su una giunta di maggioranza di donne è un simbolo forte ma comunque quello che volevamo far passare come messaggio era un forte messaggio contro la violenza contro ogni forma di violenza e di discriminazione soprattutto nei confronti delle donne che sono quelle che maggiormente ne soffrono e purtroppo abbiamo questi dati in possesso che ci dicono che non denunciano. Mentre altre forme di violenza vengono denunciate, quella soprattutto domestica invece rimane all'interno delle mura domestiche, come se ci fosse una vergogna nel denunciare questa cosa. Noi con questo piccolo simbolo vogliamo dimostrare alla cittadinanza e alle persone che invece subiscono questa violenza perché purtroppo ci sono anche nel nostro comune che siamo vicini, siamo pronti ad ascoltarli e accompagnarli in un percorso di rinascita perché non dobbiamo abbassare la testa e subire queste cose. Un'ultimissima cosa è quella che riguarda comunque il momento in cui ci troviamo, ovvero quello della pandemia del Covid-19, come sta andando la situazione qua a Montelabate anche non solo dal punto di vista dei contagi ma anche delle scuole? Allora, devo dire che noi siamo stati molto colpiti nel mese di marzo e aprile, siamo stati uno dei comuni più colpiti nella regione Marche. Adesso i dati sono un po' più rassicuranti. È chiaro che noi abbiamo una zona industriale importante per la provincia di Pesaro Urbino dove raccogliamo tante persone che provengono anche da altri comuni, il fatto di potersi contagiare è molto più facile rispetto ad altre realtà. Devo dire che i cittadini collaborano, che comunque cercano di evitare spostamenti inutili. È chiaro che noi ci troviamo in un comune dove in questo momento abbiamo pochi centri commerciali, pochi supermercati per cui siamo obbligati a migrare nel comune vicino, soprattutto graviamo su quello di Vallefoglia. Però per il resto devo dire che anche a livello scolastico gli genitori collaborano e i bambini sono fantastici e quindi a oggi mi sento di dire che i dati sono rassicuranti, però non dobbiamo abbassare la guardia perché altrimenti ci ritroviamo come è già successo a marzo e aprile e non vorrei mai perché è stato veramente devastante a livello psicologico.